Incidente mortale oggi, giovedì 27 settembre, intorno alle 15, in un'azienda situata in via Concetto Marchesi a Collegno. Un operaio di 58 anni stava lavorando presso la ditta Metal Eur ad un blocco di metallo sospeso ad un'altezza di circa 3 metri, quando, per causa in via di certamento, è precipitato. Sul posto sono intervenuti immediatamente l'ambulanza della Croce Verde di Rivoli, i vigili del fuoco di Torino e i carabinieri. Inutili purtroppo i tentativi di salvare l'uomo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Grazie. 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 Grazie.